Vice sindaco Tacchetti, il sopralluogo della regione Abruzzo per vedere da vicino i problemi che ha causato l'amareggiata di questi ultimi giorni sia nella zona nord di Roseto e quella sud. Sì, purtroppo con il passare del tempo i problemi aumentano e i danni anche. Questa volta abbiamo avuto danni sia alle infrastrutture presenti nella zona sia anche alle strutture ricettive degli operatori della zona. Quindi i problemi aumentano, aumentano qui a Roseto sud, aumentano a Roseto nord e aumentano nella frazione di colonia spiaggia. Tra interi tratti di spiaggia non esistono più, per cui è ora che la regione intervenga con degli strumenti importanti che possano mettere fine o quantomeno arginare il fenomeno dell'erosione che si rischia da qui a qualche anno veramente di cancellare anche le strutture ricettive presenti su questo tratto di litorale. Per cui l'auspicio e anche la richiesta che facciamo questa mattina ai tecnici della regione è di elaborare un piano che permetta di tamponare questa emergenza perché così avanti non si va. Voi già in passato avete chiesto aiuti alla regione Abruzzo, però ora il problema si è aggravato maggiormente. Sì, noi abbiamo chiesto già dal nostro insediamento degli interventi seri per poter mettere fine a questo purtroppo fenomeno che sta interessando la costa adriatica e in particolare anche il nostro comune. Speriamo che quanto prima si riesca a mettere in campo delle azioni e dare il via a dei lavori che sono ormai necessari e non più procrastinabili. Grazie. 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 Grazie.